294 presenze ufficiali in Serie A con la maglia dell'Aquila, miglior marcatore assoluto nella storia del club con oltre 2.500 punti, due scudetti vinti, quello del 1981 e quello storico del 1994 in finale contro il Milan. 47 presenze in nazionale, due coppe del mondo disputate come giocatore. Gino Troiani è una leggenda vivente della palla ovale italiana. Dal 2010 Troiani è il team manager della nazionale di rugby. Arrivato in epoca mallet, l'ex numero 10 neroverde è rimasto anche con Jacques Brunel. Ai microfoni di TV6 Troiani parla del raduno premondiale che gli azzurri svolgeranno all'Aquila dal 12 al 25 luglio. Ho trovato subito la massima disponibilità a parte di tutti, dall'amministrazione locale a tutte le realtà reglistiche cittadine e quindi anche dopo sentire il parere di Jacques Brunel abbiamo definito di fare qui il raduno, il secondo raduno di preparazione mondiale. Ultimamente c'erano pochissime occasioni per le squadre nazionali di venire qui all'Aquila. C'è stata recentemente la 18, c'è stata due anni fa gli emergenti, però la nazionale maggiore mancava da un po'. Quindi sono abbastanza contento che la nazionale torni qui per un messaggio che è di dare un po' di entusiasmo a coloro che seguono un po' più il rugby e spero che possa dare anche una mano a quelle società che con fatica, regbisti che con fatica si muovono in questa realtà.